Il signor Bibo è un Pokemon carica video su YouTube, appunto oggi rimediamo, stiamo rimediando Poi dopo quello che ho visto ieri, dopo che il mio duo diciamo ha tirato 25 bombe, ha tirato 25 kg in arena Non si può fare una figuraccia quindi deve far vedere che veramente è così forte Allora ragazzi, 10.000 like per questo video, 10.000 like per il mio ritorno su YouTube Poi mi sa che sono anche troppi eh, però vabbè, ci proviamo, ci proviamo Direi che si può andare in arena, si va in arena, si va subito in arena Ma lei è così forte come dicono o è solo una leggenda? Lo scopriremo Lo scopriremo? Eh, vediamo, secondo me è un po' una leggenda Neemolesi Neemolesi, va bene, faccia vedere signor Nardi, ci faccia vedere Ma la piccola la chiamavano best land a lei? Beh, che mi chiamavano best landerita Best landerita? Ecco, lo piccono piccono, prendiamolo Bravo No, è arrivata l'altro piccolare Ma come? No, no, si prende la vita Fallito Resto, resto, resto Resto, resto, resto Non, 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 ne metto più Rio, 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 rio Sì, che resto? Resto? Lo sai che mo sale, vero? Sì, sì, sì Lo sai che sta salendo? Non volevo guardare Facce, la facce, la facce Non volevo guardare Facce, la facce No, no, no E niente Va bene, va bene Che schifo sta partita Il peggio proprio Il peggio del peggio Il due più forte del mondo E muore picconato Faccio un hand esotico Cos'è un hand esotico? Poi se potrei arrivare prima io, eh Potrei arrivare anche prima io Mettere la scala Preso il muro? No Preso 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 Non muore Arriva 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 Sto snitchando eh Ok Eh sono buonissimo Holdo holdo Faccio un mini Vai Holdo io Holdo io eh Soldando Ok Preso Preso Mi sto facendo un citta Ok Sono morto C'è un altro C'è un altro Sono morto Sono morto Sono morto No Vieni Non è mio Ti apro Ti apro Vieni Passo il muro No L'apro Vai No l'ho ucciso Te lo fai Te lo fai Giuro che te lo fai Bravissimo GG GG Hai capito signorardi Però ce la taglia qua Ma dove sono? Ah davanti a me Davanti a me Ok Ci è sempre Bravissimo Cosa è stato sto rumore? Non lo sa Cos'è stato sto rumore? Cos'è stato sto rumore? Cos'è stato un rumore? No a mezzo non riesco a giocare Si bacia Qua Qua Morto Eh li sento Li sento Li sento Sei da dietro e da davanti Vieni Hai shock No Ti seguo Ti seguo Siamo pushati hard No Niente Continuo a spararmi Sei qua Ti lo so Faccio un pesce Ti boxo Ti boxo Ti boxato Ti sono 110 Morto 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 Arrivo Arrivo Qua 27 27 27 Capito Arrivo Non so Ci sono Ci sono Sono qua Non ho più mazze Bravissimo Arrivo Arrivo Bravissimo 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 Trocattivo di P90 Pittato Da dietro Da dietro Da dietro Sono morto Sono morto Dg Vabbè ragazzi Cioè Cos'hai andato a dire Arrivo Sago subito su Si è tirato il razzo addosso Ma è scemo Sono quasi qua Facca la facca Facca la facca Vai 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 Rompi rompi Da dietro Il tato Non ci credo È morto Sì ci provo Niente Balla Balla lui Ho visto Che cosa Ma che cosa ho più visto Ci sono Tato Traccato Quarta sta in testa Morto Altri sopra 18 18 18 18 Le ho fatto Non c'ho mazzo Faccio farlo vedere Faccio farlo vedere Mi ha botto 78 White One in quale Dg Ucciso 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 Questi sono forti Va bene Va bene Va bene Va bene Sinonardi E' bianco No non è white Scherzo Senza mazza Senza mazza Questo è un problema Che faccio No Vai 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 E' qua Sento Morto 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 No no c'ho tre di vita Lo fai Te lo fai Te lo fai Te lo fai La claccia La claccia La claccia Filati Ok Bravo Bello l'80 Eh non so Scarsi Non so Scarsi La fai C'è la fai Uh Ancora Ma Oh Così in faccia Faccio tre di vita Non ci credo Ardi Te lo fai Te lo fai Eh capito Come scappa Bravissimo Ok C'è uno dietro Ha pochissima vita Ah no l'ha già ucciso Ah ok Altro stanno arrivando in safe Stanno arrivando in safe Ardi best player Bella Sa hit Ok Dovrebbe essere white Sì è white Eh tutti che scappano Ho capito Scappano dal best duo Cosa sto facendo Ho rombato La vedo La vedo in forma oggi Ardi La vedo particolarmente in forma Io scapperei Mi sa che sei morto Sì mi sa che sei morto Uh Bra Eccolo Bincato Ok 41 Quasi boxato Mamma mia Ardi Mamma mia Ardi Ah si va a cagliare così Sono i due Non è full boxato È boccato Ok Io sento 109 Mamma mia Immobili Immobili come due pietre Zonwar Vabbè Ardi Sei matto È matto ragazzi È matto Io ve l'ho detto Che era matto Ve l'avevo detto Io l'ho detto Inizio i video Che era matto Occhio Ciao bello Ci vediamo domani Ardi È 12 kill Si può fare la win qua Eh Ok Sì 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 Questo è un grosso problema Nice splash 37 Conato Non ci credo Non ci credo Occhio Mamma mia Che danni sono Un boxato Eeeh Vabbè 18 kill No no Un po' Un po' Questa Questa è una follia Ardi Io te lo dico Questa è ufficialmente Una follia 25 Morto 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 Ok Sei pure in safe Non è sulla montagna Ho capito Best mira Allora Eeeh Il polletto Eeeh Guarda che vuole tirarla Faccio vedere un trucco Trucchetto Va bene Mi viene al trucchetto Eeeh Picconata Questo è il trucco Poi non vatole ragazzi Perché sennò Mi sa che Qui morite Perchino tutti Sono 20 kill Si E te li fai tutti Mi sa Perché tanto giusto Ok Arriva l'altro team Mi sa No uno ha rifiutato Mi sa che Sono 19 kill Io te lo dico La farà l'Ardi A tirare le 20 bombe Mi sa Mi sa che te lo rubano Questo Va Non ci credo Quante Quante No Non è possibile Aveva fatto 700 di danno 700 di danno Vabbè ragazzoni Insomma Allora Se Ardi Ha mostrato Le sue skill Vi lascerò Il mio instagram Quello del signor Ardi In iscrizione E best duo In italia No cap Ciao ragazzi Fate bravi Mettici su instagram Ciao a tutti Ciao a tutti